i figli dei contadini o i figli degli operai sono potuti andare a scuola e riscattarsi oggi siamo tornati indietro perché non è possibile più vedete, hanno aumentato le diseguaglianze sociali e noi siamo una coalizione una coalizione che è l'unica che nel paese dice no a Monti perché anche gli ultimi provvedimenti intervenire per salvare a Monti Paschi